Anno che si metteva la pasta del maes all'ombra, la pasta del maes si mette all'ombra, quando c'è la muffa si mette al sole, si macina, si secca, si macina e la polvera è tipo penicillina. E non è l'unica medicinale, ci sono altre medicinali che vi farò vedere. E' l'arte, che ci sono.